e ringrazio il professor Bruno per la sua cortese presenza. Il professor Bruno si è occupato del mostro di Firenze sin dagli anni Ottanta, ricordo che fece il consulente del SISDE, fece le prime relazioni sul caso del mostro, il primo criminal profiling nell'84 e poi un altro nell'85 e poi con me c'è Sergio Garuso che saluto e ringrazio, io volevo fare una breve introduzione sul libro, il libro racconta innanzitutto la storia del mostro di Firenze e non il romanzo che è stato propinato dai media che voleva i Pacciani e compagni di Merende autori di questi crimini, purtroppo in quegli anni sono state fatte delle sentenze che riguardano alcuni omicidi del mostro di Firenze che è il caso di cronaca nera giudiziaria più incredibile del nostro paese ma non solo del nostro paese, dico bene? Ecco, noi abbiamo fatto questo libro documentale che si basa sui documenti, questo è un caso criminale per eccellenza che tutti coloro che studiano la criminologia dovrebbero conoscere, qui abbiamo poi chi vuole il libro è disponibile e penso che potrà essere interessante per voi conoscere questa storia perché è fondamentale per lo studio della criminologia. Poi è un lavoro fatto appunto sugli atti e da questi atti emerge una realtà sicuramente diversa da quella che fu la realtà giudiziaria, quantomeno parziale, si sta ancora indagando sul caso del mostro, si è ripreso ad indagare lo scorso anno a seguito del reportage che feci in tv, dopo di questo mi hanno chiesto di fare un libro e l'abbiamo fatto con i colleghi Cappelletti e Bruno in maniera credo precisa dai riscontri della stampa e dai riscontri di vendita sta avendo un buon successo, purtroppo non abbiamo il favore dei media nazionali perché comunque sono stati un po' quelli che nel passato hanno sposato delle tesi piuttosto, io oserei dire, questo è il mio parere personale, costruite che hanno portato poi a delle sentenze. Ecco questa è la mia introduzione, volevo adesso far intervenire il professor Bruno che appunto dagli anni Ottanta ha iniziato a occuparsi di questo caso e nei primi anni 2000 ci ha passato anche dei guai, no professor? Vabbè, diciamo che sì. Allora, questo caso come iniziò a seguire? Beh dunque, devo dire, non so se si sente, devo dire che in un primo tempo me ne sono interessato solo per quello che era la cronaca dei giornali, quindi diciamo che il primo delitto è avvenuto nel 1968 ed è stato superato tranquillamente perché i carabinieri che allora intervennero ebbero la sensazione di aver individuato subito l'autore e quindi chiusero la cosa in poche ore senza neanche sottolineare che si era trattato di un duplice omicidio, quindi qualcosa di più importante che non un semplice omicidio. La posso interrompere e chiedere una cosa, fare un passo indietro, lei annovera tra la serie delittuosa il delitto del 68, molti non lo fanno, lo ritengono opera dei sardi, un omicidio passionale eccetera, perché lei come io penso che sia e come abbiamo evidenziato anche nel libro ritiene che quello del 68 è il primo delitto del mostro? Ma quello del 68 è indubbiamente il primo delitto del mostro, perché? Perché il modus operandi del mostro è sempre lo stesso e comincia in quel momento e si raffina successivamente man mano che lo compie, perché non è che il mostro prima ammazzava la gente, prima era una persona normale, poi un bel giorno ha cominciato a ammazzare e ha percorso tutto un cammino che si può benissimo riconoscere, poi perché se i carabinieri avessero arrestato all'epoca uno che poteva essere, lo diceva, forse magari hanno sbagliato, ma il fatto di pensare all'errore poteva essere una teoria come un'altra. In realtà hanno preso la persona sbagliata, la persona che nel modo più assoluto non poteva essere, perché era un debole demente, mentre noi sappiamo che il mostro sicuramente non è un debole demente potrebbe essere un furbo, un figlio di puttana, quello che volete, ma non è un debole demente Quindi nel primo delitto che c'è la presenza, ricordiamolo, il condannato è Stefano Mele, che era un oligofrenico riconosciuto c'è la presenza del bambino, ecco, questo le chiedo, può aver inibito le successive operazioni che faceva poi il mostro le scissioni? No, non era dunque, allora, il mostro a quel tempo non aveva nessuna necessità di scendere niente, probabilmente e probabilmente voleva solo colpire questi due che erano effettivamente un po' scandalosi, perché erano noti in tutto il paese non questi due, lei con tutti i suoi amanti, che non erano pochi, sono stati tutti, ma nessuno di questi qua e allora lei soleva farsela con altri sardi, perché i sardi erano tanti, c'era una famiglia numerosa quindi c'erano diversi cugini e consanguinei di Stefano Mele che frequentavano casa sua e lui non faceva caso, no, il bambino, poveraccio, ha detto una frase che adesso il bambino si sente con la psicologa male e peggio di prima, però allora non ci si pensava minimamente perché quando il bambino bussò, o non lui o qualcuno, su no per lui secondo lei bussò, andò a lui a piedi o fu portato? fu portato perché le calze erano pulite, quindi non potevano essere pulite perché tra l'altro era piovuto quel giorno, il giorno prima e quindi c'era un po' di fango ci sono dei verbali un po' controversi, alcuni dicono sporchi, alcuni puliti vabbè comunque si, quello che so io era questo, cioè quello che era abbassato purtroppo non ho potuto analizzare tutte le carte, ma solo quelle che erano l'assunto diciamo, e allora il ragazzino non sarebbe potuto andare lì perché io sono stato nei luoghi dove sono venuti i delitti, li ho visti tutti, anche se all'epoca in cui ci sono stato io andavo cercando, avrei trovato molto più facilmente le cose di Tutankhamon piuttosto che non perché sono andato molto tempo dopo, però per quanto molto tempo dopo, lì era evidente un ragazzino colpito da una cosa così grave sarebbe fuggito andando verso le case non andando verso... cioè verso la villa di fronte, Villa Castelletti non c'era solo la Villa Castelletti, c'erano un sacco di case quindi lì ci stanno delle case, la gente, no? è chiaro che il bambino non sarebbe andato lì non è che il bambino a mezzanotte è svegliato all'improvviso da un colpito pistola con quelli morti dove va? e quindi è stato portato secondo lei? è stato portato, allora il mostro sicuramente si è messo sulle spalle e l'ha portato lui oh, perché? Perché è qui il punto, perché il mostro ammazza dei giovani che stanno lì a facciandarti in tutt'altra cosa, cioè non esiste un delitto di questo tipo nella storia della criminologia, anche se tutti i delitti, tutti i delitti che coinvolgono adesso per esempio i femminicidi, eccetera, nascono su basi analoghi però quello che ha fatto il mostro, cioè se il mostro voleva ammazzare una donna e ci metteva niente, insomma, c'era bisogno di ammazzare una donna mentre sta insieme ad uno e ammazzarne due per poi giocare con una sola insomma, non poteva trovarla in qualunque modo una donna evidentemente no, lui voleva una donna che stesse con un uomo va bene, perché? e questo è il punto fondamentale da cui bisogna partire che connotazione? innanzitutto capire qual è il motivo di questi delitti, no? e questi sono delitti assolutamente fatti con la carta copiativa cioè delitti uguali, no? in cui se noi andiamo a vedere le coppie nostre ordinariamente simili si trattava di giovani, tra l'adolescenza e i 90 anni i quali stavano, come succedeva in quel tempo in quasi tutti i luoghi che io conosco stavano in vicinanza intima fra loro non potendo, allora non è che adesso per esempio io ho mio figlio con la sua ragazza che sta a casa mia mi ha portato, mi ha infilato dentro casa né io mi momento qualcuno qualcuno gli può dire qualcosa non ci penso nemmeno ma ai tempi miei una cosa di questo genere non era pensabile quindi c'era la macchina, la santa macchina dove uno poteva in qualche modo e questo gli dava fastidio a lui? allora, a questa cosa evidentemente a lui gli dava fastidio perché se tu vai a prendere quelli che stanno in macchina e stanno in macchina per movimenti erotici fra loro questa cosa gli dà fastidio allora bisogna capire perché gli dà fastidio no? e quindi questa cosa è tale per cui oggi c'è un ripensamento profondo che però quando siamo nel 68 nel 74 non c'era minimamente quindi dovevi pensare che tu solo in certe condizioni potevi esercitare la sensualità a parte che non se ne parlasse quindi allora professore io la interrompo un attimo innanzitutto per spiegare ai presenti come andò poi questa storia del mostro processualmente cioè sintetizzo poi l'ha fatto anche prima molto bene Sergio ha spiegato la catena dei delitti che poi si interrompe nell'85 e appunto poi arriva a 8 duplici omicidi fino al 1985 una domanda ancora professore e poi ripartiamo da qui prima di introdurre l'argomento poi Pacciani perché qui abbiamo una semi verità giudiziaria che diciamo questa è una mia opinione abbastanza discutibile insomma anzi direi che si è trovato noi l'abbiamo documentato nel libro degli elementi che la mettono seriamente in discussione anzi escludono che quella testimonianza su cui si basavano poi queste condanne a Pacciani no perché morì assolto comunque ai compagni di merenda che sarebbero stati complici di Pacciani non è verosimile non è va oltre ogni ragionevole dubbio questo è il titolo del libro e qui noi nel libro lo dimostriamo documentalmente ora prima di di andare avanti poi con il discorso Pacciani e vedere perché è stato inquisito perché poi sono stati condannati volevo chiedere al professor Bruno e poi magari ci dice qualcosa anche il professor Caruso e perché noi sappiamo che sono state condannate più persone quindi per la magistratura noi abbiamo più mostri di Firenze si è sempre parlato di un mostro si è iniziata l'indagine si è avviato un processo su un singolo individuo che era Pacciani e vorrei sapere la sua opinione su perché secondo lui non potevano essere più persone a fare questi omicidi secondo me si dunque innanzitutto e poi sulle sette esoteriche che si è parlato innanzitutto il il modus operandi del mostro è sempre lo stesso questo è il primo primo punto e quindi non lascia minimamente pensare che ci possono essere due persone che agiscono perché non c'è traccia della seconda c'è traccia solo di una persona in tutti i delitti quindi non c'è dubbio questo dal punto di vista proprio di analisi criminale di polizia poi c'è un altro punto fondamentale e questo purtroppo non riesco a farlo entrare nella testa dei poliziotti non più che dei poliziotti nella testa degli uomini politici perché i poliziotti rispondono ai giornalisti e agli uomini politici quindi bisogna farlo entrare nella testa di questi altri due il che è più tragico è quasi impossibile la cosa è questa vi ho detto prima che quando io ammazzo una persona io qualunque io devo avere un problema personale se ho un problema personale lo posso fare più facilmente che non oppure devo far parte di una organizzazione mafiosa che mi dicono tu devi andare a ammazzare quello tu fai il kill poi ci avrai comunque il tuo pagamento va bene allora se questo è vero dobbiamo presumere che anche nei delitti dove c'è un piacere no? allora se io faccio un femminicidio e ammazzo quella troia che mi ero sposato è quella il fatto che io gli do 40-50 coltellate a me mi piace mi piace se no perché gli do potrebbe una sola abbassare e invece no gli avrei 50 perché ti piace lo vuoi fare allora noi non possiamo fare finta che il piacere non esiste esiste il piacere e il piacere io sono non sono un vizioso anche se ne lo sembro mangio troppo perché mi piace ma per quanto non sia un vizioso so che cosa significa fumarsi una sieretta e molte volte anche io che non sono fumatore mi viene in mente di fumarmi una sieretta no? perché? perché ne traggo un piacere allora voi che siete probabilmente fumatori qualcuno quindi conoscete bene questo piacere voi ve la potreste fare fumare una sieretta da un altro? no eh no non esiste non esiste andate dal tossicoma che sta per fare la pera no? e dice scusa me la faccio io la pera e poi tu voti ma lei sa che no è una cazzata questa e allora questa cazzata questi la mettono in massimo grado per cui si sono inventati che i mostri di finanza possono essere 50 cazzate non è vero non è possibile lei sa che poi ci sono stati anche dei processi sui mandanti che poi sono stati assolti certo perché cercano i mandanti laddove i mandanti non ci possono essere perché il mandante è un'altra questione il mandante è quello che lui non lo può fare ma lo farebbe volentieri lui no? allora se io ho uno che non me paga che mi deve pagare a tutti i costi e allora lo devo far fuori perché sennò diventa sennò non me paga più nessuno e allora io siccome io faccio il banchiere non posso mandarlo ad ammazzare non posso ammazzarlo io e io lo trovo un delinquente lo pago lo faccio ammazzare ma non è questo il caso non è questo il caso perché noi sappiamo chi poi bisogna conoscere i personaggi sappiamo chi era Pacciani chi era Lotti chi era Vanni basta andare su Youtube a vedere i processi allora Lotti era un demente quasi uno borderline Vanni era un povero Postino che stava io poi vi racconto come sono andata delle cose perché no però bisogna far conoscere io sono stato un testimone di queste cose allora come nasce Pacciani da dove nasce Pacciani però poi ci possiamo arrivare tra un po' Vanni lei non l'ha conosciuto il Postino e Lotti si ma l'ho conosciuto come nascono non so come nascono sono dei personaggi borderline della società quindi Vanni un postino di paese parliamo di piccoli paesi e ubriaco già dalla mattina quindi non sapeva tornare a casa da solo andava con la Vespa sbagliata ecco bisogna anche conoscere poi questi personaggi emblematico anche Giancarlo Lotti emblematico Giancarlo Lotti che era completamente fuori lo sentite se sentite il processo io ne ho pubblicato vari stralci poi anche nel libro leggete le trascrizioni processuali vi rendete conto con che soggetti abbiamo a che fare vuoi dire tu qualcosa Sergio sul punto? volevo aggiungere diciamo alla brillante descrizione che avete fatto ne approfitto per salutarvi a tutti tra cui la collega Antonio Bardellino regente del nostro posto dopo un sergerato lo so si 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 la social skills che ha avuto questo evento in cui ci stiamo addentrando come vi dicevo stamattina in un caso il caso più grave della storia della criminologia italiana il cold case più grave della storia della criminologia italiana in cui Paolo Cochi insieme agli altri autori hanno fatto un lavoro veramente magistrale cioè il primo lavoro in cui non si leggono parterelli parterelli gossip e pettevolezzi ma si leggono dati oggettivi e questo è il primo consiglio per chi deve fare questo lavoro si deve basare su verità individuali date oggettive e ricostruzioni scientifiche infatti il libro di Paolo Cochi può essere davvero uno strumento utile non solo per la comprensione del caso del mostro di Firenze ma è utile anche per delle disamine criminologiche che sicuramente ci serviranno l'analisi della personalità e anche comportamentale di questi tre personaggi fa veramente sorridere in quanto sono stati messi in mezzo come questo gruppo d'assalto come questo gruppo di intervento che ha compiuto questa serie di delitti in cui come accennava Paolo non solo erano tre soggetti svantaggiati dal punto di vista socioculturale ma erano tre soggetti che manifestavano dei forti gap a livello cognitivo Giancarlo Lotti veniva preso in giro da tutto l'Interland come lo scemotto del villaggio e veniva soprenominato Katanga che significa in dialetto fiorentino probabilmente scemotto e in cui c'è un aneddoto classico che racconta testimone anzi diciamo Katanga sai che allo stadio sono atterrati gli alieni e lui correva a vedere l'astronave cioè abbiamo di fronte questi delitti abbiamo di fronte anche il postino uno dei tre che è Mario Vanni se non erro postino di San Gassano di San Gassano in cui addirittura gli costruirono un profilo su di lui in quanto conosceva bene gli spostamenti delle vittime cioè era una persona che bastava soltanto vederlo cioè che non solo era ubriaco alla mattina e alla sera ma era di una intelligenza e di un aspetto socio-culturale altresi limitato per non parlare di Pietro Pacciano cioè il punto centrale molti colleghi anche o esperti non sanno che Pietro Pacciano è molto innocente questa è la cosa principale c'è ancora gente che va a dire in giro che Pietro Pacciano è il mostro di Firenze in cui Pietro Pacciano è l'esatto contrario del profilo seriale perché i profili seriali sono profili organizzati in cui la personalità che noi abbiamo in questione sono soggetti innanzitutto con un'intelligenza sopra la media medio alta sono soggetti organizzati che hanno un forte controllo emotivo e che soprattutto pianificano Pietro Pacciano come spesso dice il professore che ha avuto stato l'unico ad effettuare una serie di colloqui con Pietro Pacciano era un soggetto che dicevi A invece di B e ti metterevano addosso era uno che saltava dalla serie era un soggetto con dei forti che non solo socioculturali ma anche temperamentali è pensare che un contadino della provincia di Firenze della regione rurale di Firenze possa aver compiuto insieme ad altri due soggetti evidentemente svantaggiati il più grande cold case con 16 vittime della storia della criminologia italiana davvero fa sorridere e di dubbi scusa Sergio posso interrompere ma qui poi andiamo oltre perché noi non abbiamo solo l'inverosimiglianza della colpevolezza di questi personaggi qui abbiamo delle prove contrarie che dimostrano scientificamente e anche logisticamente proprio da un punto di vista oggettivo non so se ha visto sul libro le varie dinamiche professore che non poteva essere andata siccome l'unica fronte di prova era questo pentito Giancarlo Lotti e altre fonti di prova non ce ne sono non poteva essere andata come è stato raccontato nel libro trovate tutta questa documentazione tratta dai processi tratta dagli interrogatori eccetera quindi scusa se ti ho interrotto non solo l'inverosimiglianza ma addirittura la prova contraria e ciò non basta a poter dire che questo è stato diciamo un romanzo sul mostro di Firenze quello che è stato raccontato fino adesso qui c'è la vicenda noi vi raccontiamo la vicenda del mostro di Firenze la storia quello che è accaduto realmente in base agli atti giudiziari quello che è stato fatto a livello mediatico è stato un romanzo una fiction diciamo ma altrettanto romanzata Paolo consentimi in termine è stata anche l'attenzione a determinati filoni di indagine seguito non dai giornalisti ma dai inquirenti tra cui quella che mi suona più strana e fantasiosa la pista seguita da Michele Giuttari uno dei principali inquirenti della questione in cui in maniera ostinata e in maniera ascientifica vedevano delle imbronde settarie esoteriche all'interno di questa serie di delitti in cui di esoterismo di settare addirittura di satanico non c'è nemmeno l'ombra perché chi se ne occupa di queste cose capisce che non solo i satanisti ma anche le altre sette lasciano degli identificativi nei famosi delitti rituali in cui lì non c'è nemmeno l'ombra quindi è davvero un libro da leggere per capire determinate verità processuali soprattutto per comprendere quando in Italia si fanno tante chiacchiere e pochissimi fatti infatti vi lascio con questo consiglio di leggere di studiare di tenere con sé questo libro perché davvero potrà essere utile non solo per il mostro di Firenze ma anche per il nostro futuro grazie grazie a tutti